Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale youtube Siamo qui oggi per pullare insieme sulla batch di Ribrienne su Dragon Ball Z da Dokkan Battle Allora ragazzi, vabbè vediamo un po' le carte che ci sono all'interno, i personaggi, vabbè Ovviamente a camp secondario, come potete vedere Allora vabbè, LR nuova, Bulma, vabbè ormai è invecchiata, vabbè ci sono varie carte, vabbè raga Andiamo al dunque, lo sapete io su questo canale, vabbè a parte diciamo passare le mie live di twitch su youtube Vi porto anche Dokkan, ovviamente le summon e vi diamo, raga vi diamo Ovviamente il mio account è secondario quindi non mi interessa molto diciamo le carte all'interno Però vabbè è il content raga, è il content Allora visto Tin e Riff, vediamo un attimo Allora Ok God? No, Super Saiyan 3 Però dovrebbe essere comunque un PG banner, credo Vediamo un attimo Ok, pan Però non so se si sente, sapete? Perché ovviamente ogni volta che devo fare un video devo settare anche l'audio Perché è un po' complesso raga fare i video così Cioè, ok Stavo dicendo è complesso fare i video da cellulare e riprendersi con l'altro cellulare Non è semplice Allora vediamo un attimo Più che altro, sapete la cosa brutta quella è che devi rascimolare Stones, quello è il problema Anzi è quella la noia, tra virgolette Allora vediamo un attimo Per ora, vabbè Freezer Vabbè Niente di che Ok Cracked screen Non è doppio immagino No, infatti Vabbè questa è una ciofeca raga, andiamo avanti Questa la si può anche schippare velocemente Ovviamente ragazzi io vi porto il content però ovviamente rascimolo 100, 150, al massimo 200 Dragon Stone se vi porto i video Ma è difficile raga perché io quando devo portare un video di Dokkan Devo, cioè, ma vi spiego un attimo come faccio il content, tra virgolette Io ora, una volta che finisco qui, elimino l'account, questo qui Ne creo un altro E... LR E una volta che, vabbè Creò l'account nuovo, poi devo rascimolare E a volte non è semplice perché Cioè, inizi con 20-30 Dragon Stones Quindi devi farmare di nuovo, arrivare ad un certo punto e poi rifare il video Quindi è un po' noioso, è un po' noioso, vi dico la verità Però vabbè, è il content, è il content Personaggione, personaggione Ok, bello Potrebbe essere WLR Potrebbe... no, forse no Oddio, forse sì Vediamo, sono curioso Vabbè, ovviamente è l'ultima raga No, ok, però bella salmon, vi dico la verità, bella salmon Vabbè raga, io spero che questo video su Ribri N vi sia piaciuto Ovviamente raga, su video breve, non è che posso fare video lunghissime Perché le Stones sono quelle Io però vi ricordo che se il video vi è piaciuto ovviamente Perché ovviamente raga, se sostenete i video con i like, commenti, iscrizioni, cazzi e mazzi Insomma, ovviamente ho più voglia di portarvi i contenuti di Dokkan Anche perché in Italia penso di salmon Vabbè, ce ne sono alcuni Però non sono tantissimi Quindi, vabbè Comunque Raga, detto questo Io vi ringrazio Vi ricordo che c'è il link in descrizione di Twitch se volete E niente, io vi mando un bacio, un abbraccio Ciao a tutti